Immaginate dunque che rinchiusi tra le mura di questo teatro si trovino due eserciti assai potenti e in guerra fra di loro. Sì, sostituite alla mancanza dei nostri mezzi le risorse della vostra fantasia. Moltiplicate per mille ogni uomo e costruitevi un poderoso esercito. Se potrete parlare di cavalli immaginate di vedere cavalli veri stampa enorme dei loro superbi zoccoli sul molle terreno. Sarà così la vostra fantasia a vestire i nostri re, i nostri cavalieri a condurli dall'uno all'altro luogo dell'universo riducendo a un volger di clessitra gli eventi trascorsi lungo diversi anni e... Perchè non sono io di loro? Perchè non sono io di loro? Non credete che nessuno può sapere da chi sia amato finché non mette gli occhi negli occhi dell'amore. Grazie! 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 Grazie!